Il Giulianova più forte della crisi societaria, la maceratese imballata e distratta. Si può riassumere così l'1-1 maturato all'Elvia Recina tra la capolista e l'undici allenato da Francesco Giorgini. Un pareggio che ci sta perché i giallorossi sono scesi in campo gettandosi alle spalle le questioni dirigenziali. A proposito, mercoledì potrebbe scattare lo sciopero della squadra se la vecchia società non salderà le pendenze. E concentrandosi solo sulla partita. In casa marchigiana invece lenticchie e panettoni non sono stati ancora del tutto digeriti. La formazione di Magi è apparsa macchinosa e lenta. Bartolini è la novità al posto dell'ex D'Antoni che entrerà nella ripresa e metterà a segno il rigore del pareggio definitivo. L'esperto allenatore Giuliese sa che per fermare la capolista deve bloccare la fonte del gioco dei locali. Quindi ordina a Mariani e Accensori di prendere in consegna Croce e Romano. Cuco non è in giornata e si vede sin dalle prime battute. La gara vive di sprazia. Al diciassettesimo uno dei pochi palloni giocabili per Bartolini che ci prova con un tiro comunque destinato a finire a lato anche se falso respinge in corner. Il portiere giallorosso resterà inoperoso per quasi tutto il primo tempo mentre risulterà decisivo nella ripresa. Il Giulianova presidia bene ogni zona del campo concedendo pochissimo agli avversari. Croce, uno dei tanti ex, assieme a Garaffoni ci prova dalla distanza ma la sfera termina sul fondo. Sulla ripartenza degli ospiti e il trentacinquesimo arriva il vantaggio Giuliese con Gaetani, bravo ad indirizzare il pallone nell'angolino lontano. La reazione dei padroni di casa è praticamente prossima allo zero. Al quarantatreesimo i giallorossi perdono Nassi che poco prima aveva ricevuto un pestone al suo posto De Matteis. In pieno recupero ospiti in inferiorità numerica per il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Falsa Perla. Nella ripresa, nell'arco di tre minuti il tecnico Maggi opera due cambi. Prima inserisce Villanova all'esordio con la casacca biancorossa al posto di Bartolini e poi D'Antoni al posto di uno spento cuco. Da questo momento in poi è con l'uomo in più e lecito attendersi un assedio da parte della capolista alla ricerca del pari. Ci prova Villanova al sedicesimo ma il suo tiro è alto. In area giallorossa nascono mischie pericolose che portano i locali a guadagnare una serie di corner. Al diciottesimo l'arbitro decide di assegnare il rigore per un presunto fallo di mani di Di Stefano. Dal dischetto va D'Antoni che piazza il punto del pari. Protesterà a lungo il dirigente accompagnatore degli ospiti Marco Guidobaldi che verrà poi espulso dall'arbitro. L'arata prova a ribaltare definitivamente il risultato ma sulla sua strada trova l'estremo giallorosso che nega in almeno tre occasioni il gol ai padroni di casa. Bella soprattutto la parata al trentaduesimo sul Romano. Finisce in parità. Un'occasione persa per la capolista di allungare in classifica ma che ha corso il rischio di essere scavalcata dalla Civitanovese raggiunta poi sul pari dal San Nicolò nelle battute finali. Forse un po' di imprecisione della maceratese però alla fine come è partita nel primo tempo forse meritavamo pure noi qualcosa in più. Dopo siamo rimasti in chiesi. E' normale se perdevamo dispiace però per noi oggi era una partita importante specialmente per le cose che sono successe durante la settimana che speriamo che si possa risolvere se no non è questione di risultati. Qua bisogna vedere se a Giulianova viene fuori una società altrimenti è inutile andare avanti.